La festa è per la gente, per i tifosi, per i colori viola, per non lasciarsi solo con la mano in bocca di una Champions sfumata e per ripartire da ora con l'entusiasmo giusto. Il pubblico ha risposto subito, giocatori, staff e proprietà anche. C'è stato spazio per alcune foto suggestive, uniche se vogliamo, ideate come sempre da Massimo Sestini con il suo staff al lavoro grazie anche a dei droni volanti, dei mini elicotteri, pronti a mostrare una Fiorentina mai vista. E anche il patron Andrea della Valle, trascinato dall'entusiasmo del pubblico, si è lasciato dare un caloroso saluto verso i tifosi andando anche ad occupare il centro del campo assieme a Mister Montella per uno scatto unico, un gesto simbolico anche per il futuro. In queste immagini vi facciamo vedere anche alcuni passaggi acrobatici e lo stesso fotografo proiettato oltre a 20 metri d'altezza per realizzare una sequenza anche se c'è chi non la grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!